Cambia a scola, Gentile vuole attaccarlo, tiro in corsa segnato da parte del figlio di Nando. Eccolo qua Boronel che vede il backdoor di Gentile, non lo serve, preferisce mettersi proprio col palleggio, arresto e tiro. E' una scelta vincente, altro attacco quindi per Varese, Ruzziar, palleggio, arresto e canestro. Spissu prova la penetrazione, arriva fino in fondo, sono i primi due punti della partita di Marco Spissu. Mentre Tony Douglas colpisce da fuori, imbalzo di Giovanni De Nicolao positivo fin qui in questo suo primo spezzone di partita. Poi scola abbattendo anche i led a bordo campo, recupero di Hepp per Katic che dà la palla proprio a Hepp che può in totale solitudine affondare nel canestro di Varese. Fa pensare di nuovo per portare un blocco che non si concretizza, scarico di Douglas per Ruzziar, dall'angolo la tripla vincente. Tony Douglas, una volta non vuole prendere la tripla, vuole andare dentro Dagbun, è una grande scelta perché arriva la schiacciata del nigeriano. Solo una volta Douglas con la penetrazione e lo scarico, scola, restituisce a Douglas, ci pensa un attimo, poi scaglia la tripla sulla sirena. Collassa la difesa su di lui, lascia libero in angolo Stefano Gentile. Allora Kruslin per Spissu, la tripla del sorpasso segnata dal playmaker Sardo. Lasciano correre gli arbitri, comunque alla fine arriva la persa della Dynamo, Stroutin si incontro, piede. Tiro complicato, appoggiato al vetro. Ferrero in angolo, pescato con spazio, tripla del capitano. In attacco di De Nicolao che per non uscire dal campo deve buttare la palla verso qualcuno, però quel qualcuno è un avversario. E alla fine Bilan corre bene il campo. De Nicolao per Bin che prova a partire con la partenza incrociata, galleggia in aria e trova un super canestro. Douglas dal palleggio, dentro per Egbunu, che riesce ad andare sopra il ferro, schiacciata con fallo per il nigeriano. Però non trova il canestro, altro passaggio pigro e leggibile di Sassari. Palla persa con il furto di Douglas. Canestro e fallo di Ruzier. E Varese ancora una volta con i recuperi della difesa. Tende anche la tensione sul volto di Bulleri, spisso di nuovo, altri due per lui. E arriva a nove punti, altro furto della difesa, ancora palla per Douglas. Comodi due punti in uno contro zero, vuol dire game, set and match. Varese che può gestire l'extrapossesso, penetra Bin, va in rovesciata. Canestro che vale il più 12, più 15 sulla terza in classifica, che non perdeva da otto partite consecutive in campionato. Il saluto tra Gianmarco Pozzecco e Massimo Bulleri.